Ciao a tutti e bentornate sul canale in questo video vi mostrerò i prodotti utilizzati sulle labbra nel mese di settembre ovvero la seconda puntata della nuova edizione del cosa ho sulle mie labbra partiamo subito ho qui praticamente la scatola con tutti i prodotti che ho utilizzato e cosa dire prima di iniziare il video praticamente ho ripreso ad utilizzare dei prodotti che non usavo da un po' di tempo e prodotti nuovi prodotti che o meglio che per me sono nuovi magari voi ci siete arrivate già da un bel po' di tempo partiamo i primi che vi vado a mostrare ho già gli swatch perché avevo iniziato a registrare solo che siccome non posso incollare i file di video e non posso mettere pausa non posso tagliare perché ho avendo un problema al pc quindi vi faccio vedere gli swatch già fatti e sto parlando delle tre matite essence che purtroppo al momento non sto trovando non ho più trovato nello stand sono le Ultra Last Lip Liner io ora ve ne mostro tre ma in realtà ne ho un'altra che però a settembre non ho utilizzato io queste le avevo acquistate con il nuovo assortimento primaverile e avevo appunto comprato quattro colorazioni qui di seguito vi mostro le tre colorazioni che ho utilizzato che sono One Lips che è la prima colorazione Lilac Season è la seconda e Lavender Blender che è la terza spero che riusciate a vedere bene le colorazioni praticamente sono delle matite che io utilizzo a modi rossetto praticamente quindi non per contornare non le ho ancora provate a dire la verità come solo contorno labbra ma sono delle matite che comunque durano un sacco ad esempio One Lips ricordo benissimo perché di la verità a settembre non avevo ancora segnato la durata di tutti i prodotti mentre ora nel mese di ottobre lo sto segnando quindi One Lips mi ricordo benissimo ero andata a mangiare la pizza a casa di una mia amica mi è durata la pizza tra l'altro non seccano non fanno agglomerati se per caso le ripassate io non non c'è stato necessario non è stato necessario ripassarle però appunto non c'è stata questa problematica questo piccolo problema che possono dare alcune matite tra l'altro una volta applicate sentite le labbra come se siete andate ad applicare appunto la cipria perché sente le labbra quasi vellutate quindi è confortevole appunto sulle labbra questo prodotto ho visto sul sito di Machilalia mi dava giusto un paio di colorazioni però non so appunto se proprio le hanno tolte o le hanno sostituite con delle altre matite che ho visto ma non ricordo per nulla il nome vi faccio vedere le colorazioni comunque vi ricordo che giù ci saranno sempre le foto in cui ve le mostro applicate un altro prodotto sempre essence che qualcuna magari che bacica youtube da poco non avrà mai visto è la Stay With Me questa per la precisione era una colorazione sui toni del lilla ovvero la 05 light cotton candy mi piaceva un sacco ne ho un'altra per l'applicatore mi raccomodissimo applicarla comunque la colorazione è questa e questo praticamente era un gloss come potete ben notare un lucido a labbra vediamo se lo riuscite a vedere naturalmente è un lucido a labbra che però appunto Stay With Me erano uno dei primi lucido a labbra che tra quelli che io ho acquistato che avevano una pigmentazione più elevata rispetto ad altri magari questo diciamo che almeno un paio d'ore se lo fa poi sbiadisce appunto la colorazione però c'erano avevo gloss che comunque magari dopo un'oretta già sbiadivano e questo per un po' resta quindi diciamo se per un appunto un paio d'ore bene o male se le fa quindi giusto se devo andare a fare la spesa a volte ho applicato questo prodotto poi un altro prodotto che sono andato altri due prodotti che sono andato ad utilizzare uno lo stesso un prodotto che non c'è più e che praticamente io ho terminato ed è questo qui praticamente ora è da scavare andiamo a se ve lo faccio riesco a mostrare ed è un rossetto di questa linea praticamente penso che lo vedete nei postimi finiti adesso non so se si vede qualcosa perché è un prodotto uno di questi rossetti io devo usare un'unghietta per farvi vedere meglio il colore uno di questi rossetti appunto che faceva prima essence di questa linea ne ho un altro che era un non è un rossetto non so se si riesce a vedere ed è un rossetto rosa praticamente io questo l'avevo acquistato già a sconto quindi all'epoca è un rossetto che comunque io sono andata ad utilizzare parecchie volte magari o anche per portare fuori il cane che se sentirete di abbagliare vi chiedo scusa oppure qualche volta per andare al mare è un rossetto che andavo ad utilizzare giusto così leggero magari anche da struccata se devo uscire struccata io comunque andavo ad applicare questo perché comunque è morbido quindi non mi dava problematiche l'ho utilizzato in questo modo perché all'inizio sì mi piacevano anni fa mi piacevano in effetti io ho diversi rossetti rosa ma questa colorazione rosa Barbie non mi sta bene in effetti né un altro che sappiamo inuti sto facendo lo stesso utilizzo proprio perché li voglio terminare questo appunto non lo vedrete più perché non penso che mi non mi sta più interessando scavarlo praticamente cioè non vedevo l'ora che finisse quindi penso che non lo vedrete più comunque era questo qui davvero carino glitterato luminoso quindi dava anche questa idea della era per la crona che era il numero 33 Glam Girl che io avevo comprato più che altro per il nome un altro rossetto invece che credo non ci sia più come colorazione ma in realtà la linea mi sa che c'è ancora ed è questa linea pack nero che erano in rossetti labbra lunga durata sì lunga durata questo è il numero 12 blush my lips ed è questo colore qui fucsia fucsia freddo vedete ecco qua praticamente è un rossetto che mi è durato credo di averlo utilizzato sì mi pare una una mattina e quindi averlo tenuto fino al pomeriggio almeno è un rossetto morbido comunque cioè non morbido cremoso facile da applicare quindi scorrevole che però appunto resta sulle labbra sviadirà un pochettino adesso che ci sto pensando scusatemi anche per questo mese più o meno siamo un po' così e vi ricordi come passano per la testa comunque un rossetto che dura in realtà dura parecchio magari sviadirà leggermente soprattutto all'interno del labbro io però comunque come vi ho sempre detto mangio schifezze no mangio schifezze mangio senza stare attenta perché mangio pranzo a casa per lo più quindi non ho problematiche di se se ne va pazienza non mi fa questo problema poi passiamo a Kiko per quanto riguarda Kiko vi mostro un prodotto che io ho da secoli e che io praticamente uso credo una volta quando mi ricordo ed è il lip marker questo per la precisione era lo 08 che faceva parte di una collezione limitata ora io lo svocerò e lo svoce non andrà via comunque siccome è il video è questo qui come potete vedere non è altamente coprente perché questo cioè dopo un po' di passate vedete sbiadisce un po' perché appunto è vecchiotto io in effetti lo tengo sempre di testa in giù così scende il colore insomma per quello che potrà colorare ancora se appunto lo utilizzo una volta ogni tanto perché quando lo utilizzo poi se lo vado a utilizzare o qualche giorno dopo già comunque non colora benissimo le labbra però ogni tanto appunto ecco perché ce lo da tanto comunque non mi secca le labbra anche se era un pennarello vero e proprio praticamente e la durata naturalmente non possiamo dire nulla perché appunto era un pennarello vedete è sbiadito qui cioè non è intensa come colorazione per questo appunto non lo utilizzo continuativamente altrimenti l'avrei già terminato secoli fa un altro prodotto labbra è un rossetto che purtroppo sempre è Kiko è un rossetto nuovo ma che si è già distrutto non so come cavolo sia successo praticamente mi si è staccato in effetti adesso devo provare in effetti cioè vedete in che condizioni è si è già mezzo distrutto comunque si è staccato praticamente dal il bullet dallo stick è un rossetto comunque ve lo mostro faccio più piano per ecco qua perché sennò lo rovino proprio si rompe che poi ve ne farò vedere un altro più o meno che sta in queste condizioni ma che più o meno si è sistemato meno peggio di questo comunque è questo qui è il creamy lipstick 01 sì questo colore top con un marroncino freddo con una parte malva un top praticamente sapete vi ricordate quel famoso come cavolo si chiamava quello smalto di Chanel particolare ecco mi da di quello questo rossetto comunque ma tu sa che quando lo applico sulle labbra in effetti lo sto utilizzando parecchio anche nel mese di ottobre perché mi piace a parte che mi da di autunnale quindi a parte la colorazione mi piace tantissimo come mi piace come mi sta se non vado a fare se lascio gli occhi non truccati praticamente mi piace come mi sta ma anche quando ho fatto dei trucchi sul nude mi piace non mi fa l'effetto smorto come credevo la durata non è senza perché comunque è un creamy vediamo se così ecco così si vede meglio la colorazione appunto è un creamy sbiadisce ma comunque resta leggermente perché anche quando vado a pranzare quando mangio poi comunque e poi mi vado a struccare se non mi sono struccata prima la sera ad esempio mi rimane sul dischetto poi altri prodotti che vi vado a mostrare sono due ah un altro rossetto nuovo visto quindi parliamo rossetto nuovo Kiko acquistato quindi che avete visto anche nel video dei saldi degli acquisti ultimi quello l'avevo comprato dei saldi quindi in qualche Kiko non so se online anche ci sia ancora però c'erano altre colorazioni l'unica che si salvava tra quelle rimaste i saldi era quella un altro rossetto che ho acquistato da poco e che vi ho messo lo stesso in quel video dei mesi di acquisti è stato questo qui ovvero il rossetto della linea Megalasto di Wet n Wild Berry Tall che è lo stesso che ho su oggi so come lo possiate vedere comunque è questo qui è un rossetto come potete vedere magari ecco ve lo metto così visto che abbiamo scoperto che così si vede meglio un nude questo nude però che ho trovato l'appunto avevo segnato non ricordo chi l'avesse detto fosse probabilmente il dupe di Velvet Teddy di MAC in realtà io non sono passata da MAC a controllare se è uguale magari quando mi capiterà di andare a Bari magari me lo porto e lo confronto e poi vi dirò ed è un rossetto nude ma che mi sta bene io ho dei nude che proprio non è possibile utilizzare in effetti uno ve l'avevo mostrato nel video precedente di questa categoria che era un rossetto di Kiko se ho portato di mano questo qua che come vi avevo detto in quel video io utilizzo praticamente solo con un gloss sopra perché un nude è diverso è più chiaro ma e quindi su di me praticamente è un non si può vedere praticamente quindi per me i nude sono stati già sempre un problema un po' problematici mentre questo mi piace perché è una punta è caldo è caldo mi piace come mi sa certo totalmente differente da quello di prima però mi piacciono entrambi questi due nuovi rossetti che ho acquistato da poco quindi anche questo lo sto utilizzando oggi non sapevo che mettere vedete sapete che io poi non vado d'accordo con le labbra chiare a me devono essere tutto evidente un altro rossetto di cui vi posso dire come si è comportato sempre Megalast però è Cinnamon Spine che è uno dei miei preferiti ed è questo colore qui più scuro ah dimenticavo quello ho notato che rispetto ad altri Megalast ne ho altri ne ho se in totale alcune colorazioni sono un po' più dure quello come anche Cinnamon Spine che anche se è scuro è facile da applicare mentre altri tipo Vamp It Up Sugar Plum Fairy sono più difficili da applicare mentre quello e questo qui si applicano molto molto scorrono facilmente non sono cremosi questo praticamente l'ho utilizzato quando sono andata alla fiera del Levante quindi mi è durato tutto il giorno sono andata ho bevuto uno o due caffè adesso non mi ricordo quanti ho mangiato un arancino barra arancina dico così perché vi chiedo scusa le siciliane se c'è qualche siciliana io non so di preciso come si dica quindi io vi chiedo scusa se sbaglio era appunto un fritto con alpistacchio quindi buonissimo e mi è durato poi l'ho riapplicato leggermente proprio poco pochettino poco pochettino l'italiano corregiuto leggermente all'interno perché appunto lo stacco con la parte del labbro sai comunque usa quindi appunto si era andato via leggermente ma appunto ho mangiato una cosa fritta ma per il resto delle labbra stavo bene mi era piaciuto mi piace un sacco questo colore quindi lo utilizzo spesso non ti vedavo spesso ok è un bel colore borgogna scuro davvero poi altri rossetti che sono andata ad utilizzare sono stati allora il dove sta eccolo qua NYX soft matte lip cream è l'unica soft matte che possiedo questa purtroppo quando vado a mangiare sbiadisce il colore è bello però appunto se so che poi devo mangiare fuori non la vado ad applicare se invece poi sono a casa la applico è un colore un po' particolare freddo un berry colori che piacciono a me prugna berry questi colori così ha un odore di bubble gum di big bubble di caramella buonissimo non mi dà fastidio sulle labbra dura almeno quelle 4 ore fisse se non mangio se le fa mentre se poi vado a mangiare appunto sbiadisce a volte va via dipende cosa vado a mangiare sempre per l'appunto un altro prodotto che sono andata ad applicare ad utilizzare che avete visto anche nel video precedente ancora questo qui new york color 442 berry me allora io questo lo sto utilizzando un sacco è un rossetto come potete vedere cremoso che praticamente questo con un altro rossetto li sto utilizzando praticamente tipo devo uscire di corsa non so che mettere e boom prendo questo e me lo metto davvero mi piacciono un sacco sono rossetti facili da applicare tra l'altro questo è anche comodissimo non devo andare necessariamente non devo andare a fare il contorno se facessi l'applicazione perfetta forse verrebbe ancora meglio l'applicazione però mi piace tantissimo questa è la linea showtime expert last lip color non c'è scritto nulla qui ma secondo me questo ha qualcosa di idratante all'interno perché è morbido e io le labbra morbide ancora non mi si sono spaccate non mi si sono fatte niente lo uso tanto insomma mi sembra proprio una specie burro cacao che vado ad applicare per quanto è morbido la durata buona perché mi fa almeno quelle 3-4 ore me le fa magari sbiadisce al pranzo però come vi dicevo a me non fa niente ve lo faccio vedere di nuovo ed è questo qui poi un altro rossetto che ho utilizzato rossetto matitone è questa qui la Revlon Revlon color bust color bust matt balma praticamente il matitone nella colorazione 205 di Revlon io ho già un po' di tempo non mi piace questi prodotti perché sono di menta questo rosato qui vediamo questo rosato però non bevi come l'altro quindi lo vado a utilizzare tantissimo lo utilizzo per lo più prima autunno e primavera anche in inverno in estate lo uso poco però è questo colore qui davvero carino facile anche questo da applicare al volo quindi anche questo è uno di quei prodotti che potete applicare al volo mi piacciono tantissimo questo prodotto perché comunque anche se il finish è opaco non va a seccare le labbra durata durata buona se mi ricordo cosa ho fatto quel giorno no non mi ricordo non mi ricordo cosa ho fatto quel giorno cosa ho fatto probabilmente sarà uscita il pomeriggio quindi niente di che quelle 4 ore bene o male se le sarà fatte perché più o meno di solito quando esca il pomeriggio dalle 5 poi un altro rossetto che sono andata ad utilizzare sempre chiaro è questo qui che è uno dei rossetti che ha dato l'input al chiaro ai rossetti chiari che è questo di mesauda il numero 118 dancing queen no vabbè me lo faccio vedere sempre qui perché su questo braccio ed è questo rossetto qui chiarissimo però come potete vedere è caldo è sempre base calda un po' come è simile vedete a questo questo era il beritol questo però è il più luminoso come rossetto questo l'avevo utilizzato ricordo benissimo un pomeriggio che ero andata fuori ero stata fuori casa tutto il pomeriggio mi era durato e poi quando ero tornata a casa comunque dopo cena c'era ancora qualcosa avevo mangiato giusto qualcosina perché comunque non mi ero fatta la buffata la cena però appunto mi era durato tutto il pomeriggio e non mi aveva dato fastidio tra l'altro avevo anche mangiato un gelato quindi era resistito anche al gelato poi un altro rossetto se non ricordo male sì è questo qui l'altro rossetto che come vi dicevo si è mezzo decapitato ed è un diva crime per la precisione a cross the universe che praticamente mi si era decapitato quando avevo fatto le foto io l'avevo comprato per il black friday lo scorso anno e mentre faccio le foto praticamente si era un po' decapitato in effetti vedete stacca non ho ancora trovato la soluzione però riesco a metterlo e lo metto vicino è un fucsia freddo intensissimo praticamente avevo usato questo la mattina e questo il pomeriggio perché dovevo essere presente a una parte non andava bene il rossetto fucsia comunque rossetto intenso ottima durata l'avevo applicato al mattino ed era resistito comunque al pranzo ma poi l'avevo dovuto stuccare quindi però comunque sono morbidi mi piacciono in effetti voglio trovare la soluzione se voi sapete come riappiccicare i rossetti voglio però ho paura usare l'accendino per scaldarlo attaccarlo però per il momento riesco bene o male ad applicarli male che vada lì travasero da qualche parte non so consigliatemi voi ditemi il rossetto comunque questo qui facile da applicare non ha a volte neanche necessità di contornarlo perché appunto non è cremoso rimane questo finisce leggermente satinato non proprio su di me non rimane proprio opaco però appunto mi piace un sacco un altro prodotto che ho utilizzato che purtroppo anche questo non c'è più io dimentico sempre di dirvelo all'inizio del video che i prodotti che vado a utilizzare sono i prodotti che io ho e che ho anche da anni quindi magari appunto come vi dicevo come vi ho mostrato e come vi sto per mostrare ho prodotti che non sono più in produzione e comunque vabbè io vi mostro lo stesso perché appunto li ho usati ed è l'ossetto effetto lacca extra tenuta 3 in 1 di bottega verde che purtroppo bottega verde non fa più e mi dispiace un sacco perché questi rossetti questo prodotto era fantastico ve lo metto qui vicino allora devo fare più applicazioni per far venire a volte il colore uniforme diciamo che sul labbra è anche più facile però è un rossetto idratante è un prodotto è un prodotto labbra idratante effetto lacca luminoso mi dura quelle 4 ore più o meno quando mangio mangio va un po' via però appunto mi va ad idratare le labbra in effetti quando andavo a Milano quando anni fa diciamo l'ultima volta è stato due anni fa che sono andata a Milano me lo sono portato perché appunto mi va ad idratare le labbra anche quando le labbra un po' secche lo vado ad applicare questo o altri prodotti sono i prodotti che è un prodotto che vado ad utilizzare quando sono un po' raffreddata e comunque ho le labbra soprattutto le labbra superiore leggermente più secco quindi che mi vada a colorare ma comunque idratare in effetti questo aveva all'interno l'estratto di cotone davvero un buon prodotto peccato che non lo faccia più bottiga verde un altro prodotto che sono andata ad utilizzare è Little Pretty un rossetto della linea Love Mark di Marc Jacobs che è questo qui questo l'ho utilizzato una sera questo purtroppo mi piace un sacco li perdono il fatto che sia che non duri tanto in effetti la sera che l'avevo utilizzato credo di aver bevuto solo uno spritz ed è questo qui questo viola intenso di Marc Jacobs io l'avevo acquistato ai saldi per questo ce l'ho questo viola qui con delle micro palluzze all'interno non so se si riescono a vedere non so perché voi lo vedete su base un po' più scuro e questo qui effetto quasi pugna mi piace un sacco il colore quindi glielo perdono che dura poco appunto lo vado ad utilizzare quando so che non devo mangiare oddio anche se quando mangio più o meno sbiadisce perché una volta l'avevo utilizzato che era un tempo fa che era andata a mangiare al cinese quindi potete immaginare però appunto era sbiadito ma poi l'avevo riapplicato perché appunto anche questo è facile da applicare se non bevo se non mangio mi dura almeno quelle tre orette mezza quattro mele fa poi altri quanti ne sono avanzati? ah tre sì sono avanzati tre prodotti un prodotto che vi vado a mostrare è un prodotto che non so se avete già visto il video sui regali di compleanno quando sarà online questo video comunque è un rossetto che ho preso tramite un buono che mi avevano fatto la profumeria che è il mio primo rossetto di Chanel questo rossetto di Chanel in realtà allora io l'ho preso i primi di giugno il mio compleanno è stato a maggio l'ho preso verso fine maggio l'avevo preso i primi di giugno ma non avevo avuto l'occasione giusta per utilizzarlo l'occasione giusta è stata il 30 di settembre quando è stato il 30? sì quando c'è stato l'evento a Bari in cui è venuta un evento Cosmesiamo in cui si parlava appunto di Cosmes in generale ed è venuta Robiberta quindi era un'occasione particolare quindi ho messo questo rossetto sì no vabbè a parte quello lo volevo mettere per un'occasione speciale quindi è questo qui Rouge Coco Idratazione Continua numero 406 Antoinette sì è il mio nome praticamente in francese ed è questo marrone mattone luminoso ve lo mostro sotto questo eccolo qua lo riuscirete a vedere praticamente lo swatch è questo è un colore bellissimo mi piace come mi sta è un praticamente my lips but better ma più intenso mi è durato anche un sacco cioè calcolate che ho mangiato un pezzo di focaccia barese ed è resistito la focaccia barese io sentivo recensioni tempo fa che i rossetti di alta profumeria non avevano una lunga durata questo invece ce l'ha questo tra l'altro è anche idratante in effetti non mi ha dato problema alle labbra quindi l'ho riapplicato facilmente poi dopo comunque l'ho voluto intensificare quindi metterne di più e quindi mi piace si può stratificare ma rimenta più intenso poi gli ultimi due prodotti che vi vado a mostrare sono due prodotti di MAC uno è questa qui la cream color base nella colorazione madre magenta questo qui io l'avevo comprato a Milano tempo fa e si può utilizzare questo lo consigliavano questa colorazione perché non tutte questi sono basi appunto per occhi labbra e guance però questa colorazione nel foglietto elustrativo la sconsigliavano per gli occhi infatti ancora non l'ho utilizzata come blush e come rossetto l'ho già utilizzato e l'ho utilizzato una sera che poi dovevo uscire ma alla fine poi sono rimasta a casa ma ho mangiato la pizza ed è durato ho mangiato tipo io quando mia madre fa la pizza se mi seguite su Instagram lo vedete il sabato io mi metto tipo 3-4 foto di pizza di pezzi di pizza me lo metto qui sotto guardate che bel colore è questo fantastico dura un sacco mi è durato sì mi è durato perché l'avevo messo il pomeriggio poi che avevo un impegno poi la sera non sono riuscita più sono rimasta a casa però mi sono andata a struccare dopo aver mangiato la pizza ed è durata la pizza cioè era intatto non c'era ancora lì l'unico problema di questo prodotto lo uso poco perché è un fottino quindi magari se devo uscire non lo posso ritoccare l'ultimo prodotto che vi vado a mostrare è uno dei miei rossetti preferiti in assoluto sempre di MAC ed è il Girl About Town la foto che vedrete è una foto un po' particolare al buio appunto le foto le troverete sempre giù perché l'ho utilizzato per il matrimonio del mio migliore amico sì sembra il titolo di un film ma il matrimonio del mio migliore amico sì praticamente avevo un vestito fucsia e appunto ho messo il rossetto fucsia ed è questo qui in realtà io non ho usato solo questo ma l'ho utilizzato in combo ve lo accenno qui con il rossetto liquido di Bottega Verde nella colorazione rosa shocking praticamente questa combo io l'ho provata altre volte che è questo qui usando questo come base o meglio perfettina matita fucsia precisamente fenicottero quello come base e il rossetto di MAC applicato sopra per dare l'effetto luminoso perché quello di il rossetto liquido comunque appunto rimane più opaco quindi appunto ho usato quello che comunque lo teneva di base aggrappato e poi questo che praticamente è durato un sacco io l'ho riapplicato in effetti la foto che vedrete sul post vi lascerò naturalmente sempre giù il link è stata fatta in bagno quindi il pomeriggio la luce non era quella che era quindi non si vede tanto bene però sapete insomma ci sono talmente milioni di foto video e tutto quello che volete che do su questo rossetto comunque la mia fa cacare la foto sì però un rossetto che io vado ad applicare un sacco cioè quando non so cosa mettere poi me lo metto sempre anche il giorno del compleanno me lo sono portato in viaggio cioè oh amo questo rossetto questo qui niente e quindi appunto pranzo di matrimonio lo sono andata a ritoccare nel pomeriggio dopo aver fatto un mega aperitivo buffet fuori e poi c'era il pranzo e l'avevo ritoccato prima di andare a mangiare la torta quindi se avessimo per le foto cose varie non mi dà problemi o questo lo mi dura tutto il giorno no no nessun problema ed eccolo qua nulla il video è finito qui non c'è qui niente vi foto è venuto che questo è un video lunghissimo 30 minuti di blaterazione di rossetti spero che questo video vi sia piaciuto se volete essere praticamente aggiornate aggiornate ogni giorno sulle stories e su smartshot vi metto quasi sempre sempre la foto del rossetto del giorno appunto cosa ho sulle mie labbra quindi se volete seguirmi là li vedete tutti i giorni quando lo metto il rossetto ve lo metto e tutto il resto su facebook ogni tanto mi ricordo scrivo anche lì la testa se ne va proprio mi scordo di avere una pagina facebook mi ricordo solo quando pubblico i post i video che vi dico sono online poi me ne dimentico è nulla io vedo se riesco a registrare qualche altro video altrimenti io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima ciao a tutti mi rossetti